Si torna a scuola in presenza, riapertura fissata nella giornata di lunedì 13 settembre, senza dubbio una grande riconquista. Gianni Santilli, vice sindaco di Pescara con delega all'istruzione, ha fatto oggi il punto con i 10 dirigenti degli istituti comprensivi del comune di Pescara. Come è noto, la novità di quest'anno è rappresentata dall'obbligo del Green Pass per il personale scolastico. Dai 6 anni in su i ragazzi devono indossare la mascherina all'interno degli istituti. Non solo, attivata la vaccinazione dei ragazzi dai 12 anni in su. Quali sono le reazioni dei genitori? Le reazioni dei genitori fino ad oggi sono ottime, quindi c'è un grande afflusso al centro vaccinale e cerchiamo di completare questi vaccini per tutti i ragazzi ultra 12 anni. Se riusciamo a far fare i vaccini a tutti i ragazzi avremo la possibilità anche di stare in classe senza la mascherina. Ingressi, immagino, diversificati anche a mensa? A mensa, con la mensa che partiremo il giorno 20, è bene sottolinearlo, sarà diversificato il servizio. Alcuni gruppi, classe, mangeranno in classe e alcuni mangeranno nei refettori. Naturalmente c'è anche la tematica legata alla scuola Benedetto Croce perché il plesso al momento è inagibile. Esatto, abbiamo avuto questa notizia purtroppo durante il periodo proprio di ferragosto, però siamo stati bravi assieme alle presidi a risolvere questa problematica. È stata resa inagibile la scuola non per l'incendio, ma perché i tecnici hanno ritenuto non idonea la scuola. Quindi adesso cominceremo con i lavori, nel frattempo però abbiamo trovato immediatamente le soluzioni. Sette classi andranno a Nostra Signora, a via Gabriele D'Annunzio. Sei classi andranno alla scuola media Antonelli. Tre andranno alla primaria Pineta, a via Scarfoglio. E quattro classi andranno alla porta, a via Rubicone. Siamo in contatto con la tua per organizzare il trasporto per i ragazzi di San Silvestro. Quindi avremo un pullman dedicato che accompagnerà i ragazzi da San Silvestro nelle quattro sedi e lo stesso percorso faranno a ritorno. Grazie a tutti.